Arriva una seconda sentenza di risarcimento per i familiari delle vittime del sisma. Il governo dovrà pagare infatti altri 6 milioni di euro ai familiari di 8 vittime del sisma e a 5 persone rimaste ferite. Il giudice del Tribunale Civile dell'Aquila, Baldovino De Sensi, ha inflitto un nuovo maxi risarcimento alla Presidenza del Consiglio, istituzione a cui fanno capo sia la Protezione Civile Nazionale che la Commissione Grandi Rischi, organo consuntivo, colpevole di aver rassicurato la popolazione in occasione della riunione che si tenne in città, 5 giorni prima della scossa mortale. Nessun concorso di colpa alle vittime, quindi la sentenza shock per fortuna, per la quale si stanno preparando comunque gli appelli, è stata solo una brutta eccezione, una brutta pagina. La prima sentenza era arrivata poco prima di Natale, ottenuta grazie all'impegno degli avvocati Aquilani Maria Teresa Di Rocco e Silvia Catalucci, che avevano deciso di agire in sede civile piuttosto che penale. Sotto accusa, ancora una volta, il comportamento del braccio destro di Guido Bertolaso, Bernardo De Bernardinis, già condannato in via definitiva in sede penale per omicidio colposo e lesioni personali colpose. Le sue parole furono chiare e nette, non c'era pericolo, si trattava di una situazione favorevole, uno scarico di energia continuo, parole che persino il giudice De Sensi ha citato nella sentenza civile. Il giudice, peraltro, ha riconosciuto anche il danno morale alle vittime, sia alla sentenza di dicembre che a questa, 100.000 euro per ciascuno, riconoscendo lo stato di sofferenza sopportato dalla stessa vittima, nell'assistere allo stravolgimento della propria condizione verso la morte. In relazione, invece, alla sentenza shock della giudice Monica Croci, che ha segnato il 30% di colpa alle vittime del clolo di una palazzina di via Campo di Fossa, nelle prossime settimane i familiari delle tre vittime presenteranno l'appello, lo ha già fatto ufficialmente il Comune dell'Aquila.